ciao a tutti benvenuti in un nuovo video io sono Emanuele e queste facili e veloci opinioni un video per nulla superficiale in quanto io sono stata presente a una bellissima presentazione di un libro so che presentazione presente risulta una ripetizione ma hanno presentato un libro quindi non ci posso fare nulla il libro è la ragazza di OMS di Susan Dabus in cui diciamo questa giornalista avendo fatto tutta una serie di interviste ed essendo toccata dalle storie di queste persone che sono state in qualche modo vittime della guerra in Siria è stata talmente toccata che i pochi minuti di un servizio non le bastavano e quindi ha voluto in qualche modo rendere in forma narrativa tutti questi racconti che sono racconti di storia ma anche racconti dell'animo questa presentazione ricca di empatia ricca di confronto e di dialogo è stata una una presentazione in cui noi abbiamo condiviso l'intimità delle storie di questi personaggi del libro e ringrazio tantissimo questa giornalista vivace sensibile e intelligente e spero che parlandovi di questo libro di invitarvi anche a voi a leggerlo ad acquistarlo per in qualche modo prendere coscienza della realtà dietro le quinte sia dell'immigrazione che della guerra e della dittatura soprattutto un bacio e alla prossima ciao